A questo punto diamo la parola a Maia Issa del Movimento Studenti Palestinesi in Italia. Buonasera a tutti, grazie per questo incontro. Sono stati fatti riferimenti storici, ma io penso che un po' tutti coloro che sono qui sanno che cos'è la storia. Quindi non sto a fare lezioni di storia, penso che dobbiamo stare a parlare dell'attualità. L'attualità oggi proprio, Israele ha fatto altri crimini di guerra, sta colpendo in nord di Gaza, ha colpito una scuola, ci sono più di 150 martiri, la maggior parte sono ancora bambini e donne. In Cisjordania c'è in corso anche lì una pulizia etnica, tutti i fari sono accesi su Gaza ma non si sente parlare della Cisjordania. I coloni fanatici stanno commettendo veri e propri pogrom e dal 7 ottobre ad oggi ci sono 212 martiri solo in Cisjordania. Da noi palestinesi la prima domanda che ci è stata fatta dal 7 ottobre ad oggi è cosa ne pensate di Hamas, condannate l'azione di Hamas? Io qui mi sento di dire che giustamente non giustifico quello che ha fatto Hamas perché comunque ha causato la morte di donne e di bambini, noi siamo contro ogni morte ma è importante anche comprenderla perché quell'attacco non è venuto dal vuoto e i nostri media mainstream non hanno contestualizzato il 7 ottobre che era una risposta a 75 anni di occupazione, era una risposta soprattutto da Gaza perché Gaza c'è un embargo militare da 16 anni. A Gaza c'è stato detto che Gaza è amministrata da Hamas e questo è un grande errore perché Hamas non amministra assolutamente Gaza, Israele tiene il controllo per via terra, area, mare e tutto di Gaza. I bambini non ottengono permessi, sono violati tutti i diritti basilari a Gaza e soprattutto quello che sta commettendo Israele dal 7 ottobre ad oggi sono dei crimini di guerra contro l'umanità, colpire scuole, colpire bambini, colpire ospedali, colpite lì non ci sono basi terroristiche e lo hanno dimostrato quando sono entrati qualche giorno fa all'ospedale di Alcefa e non hanno visto nessuna base terroristica. e io qui rispondo a tutti i media mainstream che ci chiedono ma voi palestinesi utilizzate bambini e donne come scudi umani e anche se fosse ma abbiamo visto che non è vero e voi sapete che sono lì presenti donne e bambini come vi permettete ad uccidere donne e bambini e quindi fate schifo più voi o chissà che quelli sono donne e bambini e vengono utilizzati come scudi umani. E quindi noi qui da Solidali abbiamo anche una nostra responsabilità anche da palestinesi perché noi per troppo tempo non siamo scesi in piazza noi abbiamo tantissime chefie che sono ingiallite e si sono ammuffite e non possiamo permetterci di scendere in piazza solo quando Gaza è sotto i bombardamenti Gaza ha bisogno di noi ora e sempre, la Palestina ha bisogno di noi ora e sempre la Palestina deve essere rimessa all'interno dell'agenda politica di tutti i politici di tutti perché noi siamo stufi, io sono palestinesi di una nuova generazione e noi siamo stufi che i politici ci regalano solo parole e che o strumentalizzano la questione palestinese e la questione palestinese è una questione politica, non è solo una questione umanitaria e quindi i palestinesi non hanno bisogno di soldi, non hanno bisogno di raccolte fondi hanno bisogno di una soluzione politica dell'Europa perché il sionismo è nato qui il sionismo è nato in Europa, non è nato negli Stati Uniti e l'Italia e la Germania sono i primi a dover pagare le conseguenze delle leggi razziali e dello sterminio, non deve essere il mio popolo a pagare le conseguenze degli errori fatti qui in Europa e la prima ad essere processata è portata davanti alla Corte Penale Internazionale non è Biden ma è Ursula von der Leyen con le sue parole è una vera e propria criminale e soprattutto da solidale dobbiamo stare attenti alle parole che diciamo perché spesso noi utilizziamo parole errate come ad esempio il conflitto israelo-palestinese quello che sta accadendo non è un conflitto, è un genocidio, è uno sterminio è una pulizia etnica, è un massacro del popolo palestinese e non deve essere accusato il popolo palestinese di antisemitismo perché ora se dici che Israele commette un genocidio nei confronti di noi ci dicono che tu non puoi utilizzare quella parola ma è un genocidio, è Israele che deve essere condannata per antisemitismo perché anche noi palestinesi siamo semiti e sono loro che stanno uccidendo noi palestinesi semiti e non il contrario e soprattutto chi dice che ci deve essere una soluzione qui termino due stati, due popoli è completamente errata una soluzione che non funziona più dobbiamo trovare un'altra soluzione perché affinché ci sia uno stato ci deve essere integrità territoriale che in Palestina non c'è perché in Cisjordania sono presenti insediamenti legali ad oggi ci sono più di 800.000 coloni che cosa vogliono farne? Abbiamo la Cisjordania da una parte e Gaza da un'altra io non so se forse pensano di costruirci un ponte per collegare Gaza alla Cisjordania poi abbiamo bisogno di confini e Israele non ha se voi aprite adesso internet Israele non ha confini ben precisi è l'unico stato al mondo che non ha confini e quindi come è possibile? Ed è ora riconoscere lo stato palestinese significa rendere la Palestina prigioniera all'interno dello stato israeliano e quello che noi chiediamo non è solamente il cessato al fuoco perché il cessato al fuoco non è la soluzione potrebbe Israele ribombardare tra due anni tra un anno o tra qualche mese la soluzione è porre fine all'occupazione questo è l'ordine del giorno non è il cessato al fuoco dovrebbero essere smantellati gli insediamenti illegali e Israele dovrebbe essere portata è natagnato davanti alla corte penale internazionale dell'AIA e non ospedata dalla nostra premier Giorgia Meloni come un capo di stato perché quello è un criminale non è uno che può essere ospitato come un capo di stato e quindi smantellamento dei coloni fino all'apartheid fino all'occupazione e poi il cessato al fuoco grazie Maria grazie a tutti